Ben trovati con le news di sport di Attivo Marche, edizione che apriamo parlando di volley con la finale amara della Supercoppa, la lube sconfitta da Perugia al tiebreak per 3-2. E' una sconfitta che certifica però anche una crescita costante della formazione di Blengini, che però vede alzare dagli avversari il primo trofeo della stagione. Credo che abbiamo giocato una partita di combattimento, anche sofferta in molte fasi, e si sa che contro squadre con la qualità di Perugia, ma soprattutto Perugia, in qualsiasi momento le alternative che entrano dalla panchina, la qualità generale che loro hanno di battuta, magari in alcuni momenti non entrano, ma in qualsiasi momento possono ricucire anche quando sei in vantaggio. Era già successo in campionato, ce lo aspettavamo, abbiamo provato a sopportare e a resistere, in alcuni set ce l'abbiamo fatta nel quarto che eravamo avanti no, e poi hanno vinto loro. Noi dobbiamo pensare, lo dico sempre, all'oggi, cioè è inutile fare dei progetti, noi facciamo un lavoro per cui il risultato è molto ruota intorno al risultato, poi sappiamo di avere dei profili progettuali che devono progredire, però noi dobbiamo cercare sì di progredire in mezzo alle partite, ma anche con più vittorie possibile. Questo è normale, è normale perché poi dopo le sconfitte ci sono alcuni temi da ragionare, poi adesso dobbiamo verificare le condizioni anche di alcuni giocatori, non ci saranno molti giorni. Dopo le vittorie bisogna cercare di mantenere la testa fredda e con poco tempo a disposizione. Adesso entriamo in una fase in cui si gioca non solo molto, ma anche con molta frequenza, quindi sono cose alle quali anche qui dobbiamo imparare a vivere con naturalezza, mantenendo il nostro modo di lavorare, il nostro modo di stare in allenamento, il nostro modo di entrare nelle partite e stare nelle difficoltà che le partite presentano. Non è bello parlare della sconfitta, lo bisogna fare per imparare. Quest'oggi soprattutto dobbiamo imparare che le partite, anche se siamo avanti nel punteggio e nel set, non sono chiuse. Credo che questo l'abbiamo dato un po' per scontato e soprattutto il quarto set ci insegna tanto. Per fortuna siamo arrivati a una finale, una finale che abbiamo conquistato in campo e che ci serviva veramente tanto per sentire queste partite. Adesso siamo inizio la stagione, quindi la stagione è lunga e niente, cercheremo di mettere in campo l'atteggiamento che abbiamo avuto stasera. Turno di campionato infrasettimanale invece nel campionato di serie A1 femminile, nuovamente in campo dunque sia la Megabox Vallefoglia che la CBF Balducci. Cominciamo proprio dalla formazione di Vallefoglia che torna tra le Muramiche contro Pinerolo. Pinerolo che dopo espluà, ha sfiorato la vittoria contro Novara. C'è da cancellare invece Sponda Megabox, la brutta prestazione contro Firenze. Per il tecnico di Vallefoglia stiamo parlando di Mafricci. Ci sono da valutare le condizioni di Vittoria Piani dopo l'infortunio alla Caviglia di domenica. L'opposta italiana dovrebbe scendere in campo se non dovesse farci. Era pronta Luz che contro Conegliano ha ben impressionato dopo l'uscita delle compagne. In queste prime giornate di campionato, ha detto il coach Biancoverde, per com'è il calendario non si può parlare né di squadre che puntano solo a salvarsi, né di squadre che ambiscono al titolo. Ogni turno ci riserva dei risultati inaspettati, impensabili, perché non c'è tempo di allenarsi. E poi, come abbiamo detto, l'altro confronto che vede in campo una marchigiana è quello della CBF Balducci, che torna in casa contro il Bisonte Firenze. Le arancionere sono cadute nettamente nello scorso fine settimana contro la capolista Chieri. Firenze, invece, ha festeggiato il primo successo contro Pinerolo. Servirà di nuovo tutta la carica di una banca macerata forum vestito d'arancio per infondere le energie che servono alla squadra. Di coach Paniconi, per noi arriva un altro momento importante di questo intenso inizio di stagione. Ha detto Francesca Cosi, un altro match molto impegnativo contro una squadra quotata come Firenze. Siamo consapevoli che troveremo dall'altra parte della rete una formazione ben attrezzata. Fondamentale l'approccio giusto al match, come abbiamo dimostrato di saper fare in occasione della sfida con Perugia. Fra l'altro vinta alla seconda di campionato e fra l'altro vinta anche bene, sempre in casa. Questo è il quadro per quello che riguarda il volley. Ci spostiamo ora al calcio tornando sull'ultimo turno di campionato nel girone B e alla sconfitta della Vispesaro sul campo della Reggiana. Una sconfitta netta nel risultato 3-0. Infatti al MAPEI Stadium eppure per mister Sassarini la valutazione di una squadra che è rimasta in partita almeno per 70 minuti. Lo sentiamo nell'analisi post-match. Abbiamo fatto, siamo stati in partita per 73 minuti, magari un episodio poteva ancora riportarci in parità. È chiaro che c'è differenza di valori. Su questo sicuramente la differenza di valori c'è. Noi siamo stati aggrappati alla partita. All'inizio abbiamo provato a giocare a quattro, con quattro difensori non ci stavano dentro. Siamo andati a cinque e abbiamo cercato di controllarla perché nel momento in cui non avevamo la palla la Reggiana è una squadra forte. E a tratti l'abbiamo fatto anche bene. E poi abbiamo preso questo secondo gol che ha cambiato poi chiaramente, ha chiuso la gara ed è finita lì. Ecco, come concetto questo è quello che è la partita di oggi. La squadra ha fatto quello che doveva fare. Secondo me a tratti abbiamo sofferto, a tratti invece abbiamo tenuto il pallino del gioco. Nel primo tempo abbiamo avuto anche qualche situazione dove potevamo fare molto meglio e riempire l'area, soprattutto su delle riconquiste, soprattutto con provazza a sinistra, abbiamo battuto anche dei piazzati e potevamo fare meglio. E' così quando vieni qua, lo sai che non ci vuole, che devi fare la partita perfetta, non trovare una Reggiana secondo me nello stato in forma, in spolvero. Abbiamo trovato una squadra che comunque sia ha dei valori assoluti incredibili e c'è differenza. Il futsal in chiusura con le alterne vicende dell'Ital Service Pesaro e della città di Falconara. Pesaro che raccoglie un punto nella trasferta sul parquet di Pomezia, ma è un avvio di stagione al rallentatore nella serie a maschile. Continua invece la marcia pulitissima delle ragazze di coach Max Neri, il tricolore, insomma, non pesa più di tanto al Falconara che ne vince un'altra contro il Fondi. Vediamo tutto nella cronaca di Giacomo Giampieri. Per un città di Falconara che in serie a femminile ha cominciato come aveva finito, dominando ovunque, c'è un'Ital Service Pesaro che in serie a maschile non riesce a vincere. Un solo successo, tre sconfitte e un pareggio. Il primo segno X è stato messo a referto lunedì a Pomezia contro la Fortitudo. Tanta voglia di lottare fino all'ultimo per i ragazzi di Colini con gli sforzi che sono stati premiati da un punto in doppia rimonta che tutto sommato può essere colto con soddisfazione viste le mille peripezie d'inizio stagione e un organico ridotto all'osso. E così il punteggio finale di 3-3 cancella in parte i due passi falsi di fila contro la L84 e il Napoli. E pensare che contro i laziali le cose si mettono subito male, viste le reti di Jorge Santos e Raubo a chiudere un primo tempo sul 2-0. Ma Capitan De Oliveira e compagni non mollano, mancano Tony Dandel, Fortini, Dalsin e Arcidiacone. Ma chi va in campo dà tutto, tant'è che nella ripresa, attaccando col portiere di movimento, l'Ital Service rimette il match in equilibrio grazie a De Oliveira e Joao Miguel, al debutto in campionato e subito in gol. Pesaro potrebbe anche passare in vantaggio, ma Jorge Santos è superlativo, trova il varco buono e riporta avanti Pomezia. A sei minuti dal gong, Barnesi a comandare le danze con Colini ancora squalificato in tribuna, rimette il power play e l'attacco produce un fallo di mano avversario in area di rigore. E' penalty che di nuovo De Oliveira concretizza nel 3-3. Nel finale è bagarre, attacchi, contropiedi, occasioni da una parte e dall'altra, ma la palla non entra più e il match finisce pari. L'Ital Service torna in campo venerdì, ore 20.30, al palafiera contro il Real San Giuseppe per la sesta di campionato. Si diceva invece di un città di Falconara che nel futsal in rosa continua ad essere strepitoso. Contro la neopromossa Visfondi domenica scorsa, altra vittoria, la quarta su quattro partite che consente di mantenere la leadership solitare del campionato. Lo 0-5 finale, se non è più ampio, lo si deve soltanto all'ottima prestazione di Yarriccio. Il portiere rosso-blu è superlativo in più di una circostanza, ma capitola al settimo minuto. Taina va in percussione sulla sinistra e scaglia un diagonale violento che dal mazza sul secondo palo deve solo spingere in fondo al sacco. Dopo un palo centrato da Rosso, attorno al tredicesimo e qualche guizzo delle locali, a 30 secondi dalla pausa Ferrara concretizza il raddoppio. La giovane marchigiana è bravissima a liberarsi di due avversari nella sua metà campo e a coronare la sgroppata superando il portiere in uscita. La ripresa si apre con il raddoppio della stessa Ferrara, sassata da fuori che vale lo 0-3. Le ragazze di Neri non sono sazie però e il poker lo serve praticò con un destro dalla distanza. Dunque dal mazza chiude le marcature spingendo in rete un pallone da corner. Non c'è più tempo per il Fondi e le Citizens festeggiano così un nuovo successo. Domenica alle 18 torneranno al Palavadiali dove mancano da più di un mese sulla strada delle Falchette ci sarà la VIP. Ne siamo in chiusura, vi ricordiamo come di consueto che le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito tvmarche.it ma anche sulla nostra pagina Facebook di ATV. Grazie per l'attenzione ovviamente e l'augurio di una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti.